E spero aspetto, sarebbe vero che i faraoni vivono fino a 2000 anni? E spero aspetto, e spero aspetto, guardati l'intervista che ha fatto Malanga, dove spiega che un faraone Dio poteva vivere fino a 4000 anni, un faraone Dio, perché un faraone Semi Dio, 2000 anni, poi c'erano i faraoni geometra che vivono da 100-200 anni, Non esistono i faraoni, si parla di un faraone ragioniere che ha vissuto fino a 266 anni, ma era raccomandante.